La letteratura per l'infanzia è un'ottima risorsa nella progettazione di percorsi didattici originali e coinvolgenti. Nel nostro webinar useremo proprio la letteratura per l'infanzia per costruire un percorso didattico sulla salvaguardia dell'ambiente, un percorso che possa stimolare nei cittadini di domani l'adozione dei comportamenti consapevoli e sostenibili. Vedremo nel corso del webinar come presentare ai ragazzi in classe le modificazioni che l'uomo nel corso del tempo ha prodotto sull'ambiente e lo faremo anche attraverso un confronto tra l'ambientazione delle fiabe tradizionali e gli scenari fiabeschi delle rifletture moderne. Vedremo inoltre come trattare più nel dettaglio alcuni aspetti variamente legati alla questione ambientale, tutti purtroppo attualissimi, dalla carenza di spazi verdi nelle città al problema dei rifiuti. Lo faremo sempre partendo da testi significativi di autori noti e meno noti e sempre naturalmente a misura di bambino. Se questo approccio didattico vi incuriosisce o vi interessa vi aspetta il mio webinar.